La pandemia 19 ha sicuramente scatenato una crisi profonda il cui impatto si è riversato anche sul mercato finanziario che ha riproposto in misura amplificata quanto avvenuto già nelle precedenti pandemie. Tutto questo ha determinato comunque un livello generale di sconforto ma un livello generale di insicurezza che poi si è tramutato sempre di più nei consumatori, sempre più cauti e impauriti nel poter mettere a repentaglio il proprio gruzzoletto di fondi. Ma degli errori più comuni e di ciò che i risparmiatori dovrebbero fare e quindi quali dovrebbero essere il loro modus operandi ideale c'è qui con noi il consulente finanziario di fiducia Vincenzo Procino che per l'appunto ci restituirà le giuste linee guida. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, tutto bene? Senta, parliamo anche della consulenza perché grazie alla consulenza con gli addetti ai lavori come lei possiamo imparare i comportamenti più corretti evitare invece gli errori più comuni perché è importante questo aspetto per tutti i consumatori in modo da poter tutelare i risparmiatori ma permettere allo stesso tempo loro di poter guadagnare. Spesso infatti noi restiamo vincolati un po' alla convinzione che alcune mosse potrebbero rivelarsi sbagliate ma in realtà potrebbe al contrario non essere così. Però come non eccedere nella compravendita dei titoli e allo stesso tempo rimanere fermi con i nostri risparmi? Beh, intanto va detto che tipicamente i risparmiatori commettono diversi errori. Io oggi provo a raccontarvene alcuni che sono i più comuni perché sono errori di grande portata. Un errore classico è quello di lasciare i soldi fermi sui conti correnti. Allora, con questo periodo abbiamo già parlatoci dell'inflazione per dare il senso di quello che succede ai nostri soldi fermi sul conto corrente è come se io avessi fermi 100.000 euro sul conto corrente ogni giorno prendo 30 euro, li accartoccio e li butto per strada. Tutti i giorni per 365 giorni all'anno. Quindi significa che alla fine dell'anno avrò bruciato oltre 10.000 euro. Questo per chi ha un patrimonio più piccolo, quindi dei risparmi più piccoli parliamo di 100.000 euro. Provate a pensare a una persona che ha un milione di euro fermi sul conto corrente parliamo di quasi 400 euro al giorno che prendo a cartoccio e butto per terra. Come se fosse una cartaccia che tra le altre cose è una pessima abitudine e la faccio anche con i miei risparmi. Allora bisogna lavorare soprattutto sull'aspetto psicologico e sull'informazione e rilevare quello che comunque è fare opera di sensibilizzazione sull'argomento anche perché sappiamo molto bene che il nostro cervello è abituato a decidere nel modo in cui quei meccanismi possano un po' tutelarci, no? Che ci crea quella zona comfort dalla quale preferiamo non muoverci, rimaniamo lì. Certo. Però molto spesso ci affidiamo anche a quelle che sono le banche tradizionali e ci affidiamo a quei consulenti che però non restano sempre gli stessi. Quindi è pur vero che da un lato c'è la convinzione di restare nella nostra zona comfort, dall'altro lato però ci affidiamo le banche tradizionali ai consulenti delle stesse, i consulenti cambiano e tu vai sempre ancora più in confusione quindi resti poi paradizzato, resti fermo. Quello è un altro dei grandi errori, quello di rimanere fermo con la propria posizione sempre nell'istituto bancario perché si ha la sensazione di essere un po' a casa. In realtà le persone, le banche cosiddette tradizionali sono quelle che poi ogni anno, ogni anno e mezzo cambiano il riferimento. Che cosa significa? Significa che io vado in banca, ho fatto un percorso con quella persona che mi ha conosciuto un anno e mezzo fa, improvvisamente non ho più la stessa faccia, spesso quello che trovo mi dice quello che hai fatto va cambiato e quando tu provi ad alzare e magari anche a dare un accenno di protesta ti viene detto sì ma questo l'ha fatto qualcuno, io non c'ero, oggi ci sono io e dobbiamo cambiare tutto. Non voglio pensare che sia una strategia messa a terra, però il dubbio ti viene per strada di dire il fatto di non fidelizzare il cliente e il consulente è un po' una strategia per poter poi, tra virgolette, riuscire a fare un po' il bello e il cattivo tempo. Ci sono tutti gli organi di vigilanza, tutti i controlli, però il dubbio ti viene perché se ti cambia continuamente il riferimento ti viene questo dubbio. Quindi è un aspetto quello di individuare quegli interlocutori, anche tra le banche che invece ti lasciano un consulente di riferimento e non te lo cambiano in continuazione. Si può dipanare questo dubbio? Un consulente di fiducia. La fiducia diventa necessaria e imprescindibile ed è un rilevo importante in vari ambiti, non solo quello finanziario ed economico, ma anche quello sociale e anche quello organizzativo. Riuscire a reperire un consulente di fiducia presumo sia l'aspetto più importante, più efficiente, perché non è solo una questione di fiducia, ma anche una questione di competenze, o meglio, riuscire ad andare oltre le competenze e le giuste intuizioni che un consulente finanziario dovrebbe riuscire ad elargire. Certo, qui c'è proprio un errore tipico delle persone quando scelgono il proprio consulente di riferimento. Si tende a scegliere una persona di fiducia, una persona di famiglia, qualcuno che si conosce. Non si va a cercare quelle che sono le reali competenze. Un consulente deve essere una persona strutturata, deve avere esperienza, deve studiare in continuazione, si deve aggiornare. Deve essere informato quotidianamente. Deve essere informato e informato quotidianamente. Quindi spesso e volentieri addirittura non ci si affida, manca un consulente di fiducia, ci si affida al parente che teoricamente ci dovrebbe dare dei consigli finanziari. Poi spesso e volentieri la triste sorpresa, alle volte ho avuto casi in cui il cliente mi ha detto ho trovato un vero e proprio bagno di sangue, che è una cosa che ti fa capricciare. Quindi un altro di questi errori è quello di andare a vedere se il nostro consulente è una persona preparata, ha una grande esperienza, ha una struttura alle spalle, soprattutto quante ore dedica alla formazione e all'informazione. Si può scegliere qualcuno che non si conosce se è una persona competente. Del resto se io vado da un medico, non scelgo mio cugino che ha studiato biologia, vado da un medico competente perché mi devo curare. Oltre a questo aspetto, che è comunque importante sottoscrivere e sottolineare, c'è un altro errore che bisognerebbe evitare, ovvero quello di sottoscrivere quelli che sono i pacchetti già precostituiti, non pensando di quelle che sono le soluzioni ad hoc, perché in realtà ogni risparmiatore ha il suo modello o comunque ha bisogno di avere un'offerta articolata, potremmo proprio definire ad persona. Ma c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. In questo caso dovrebbe esserci un'offerta un po' più ventagliata. Guardi, questo è un altro errore tipico, cioè quello di fare i pacchetti precostituiti. Le banche li chiamano i prodotti da banco. È come se io andassi in farmacia, in una parafarmacia a fornirmi per la mia malattia e potessi prendere quei prodotti che mi vengono assegnati anche senza la prescrizione del medico. Oppure andassi dal mio medico di riferimento per il mal di ginocchio, mal di testa o mal di schiena, mi dà sempre lo stesso farmaco. L'aspirina, faccio un esempio. Non c'è personalizzazione. La settimana scorsa un mio cliente mi ha chiamato per far capire proprio... Mi ha detto, guarda, sono andato nella mia banca dove normalmente faccio i versamenti contanti verso gli assegni. Il consulente della banca mi ha chiamato visto che ti trovi qua, vieni che ti devo fare un'offerta, ti offro un prodotto che noi stiamo offrendo a questa categoria di persone. Personalizzazione zero. Zero. Assolutamente. Quindi questo è un altro degli errori tipici. Quindi già ne abbiamo individuati quattro. Ne abbiamo individuati quattro, esatto, perché molto spesso ci lasciamo paralizzare da quella che è comunque la paura del futuro. C'è questo aspetto e va molto a ricoprire l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico. Quindi bisognerebbe lavorare prima in quest'ambito per poi poterci affidare a quelli che possono essere dei pacchetti ideali per poter gestire bene i nostri risparmi. Però un altro comportamento distruttivo sicuramente, e non è tipico del risparmiatore, presumo, è quello di non riuscire a capire quali sono i giusti investimenti e le giuste opportunità sul lungo periodo. Allora da dove si parte? Anche in questo caso abbiamo bisogno di consuletti di fiducia o possiamo essere un po' autonomi in questa situazione, in questo aspetto? Guardi, io farei una domanda inversa. Cioè se io avessi un problema serio di qualsiasi natura, fiscale, legale, medico... Non ci penserei domani, ma... Faccio da me o vado da qualcuno? Perché nell'immaginario delle persone c'è la paura del futuro, soprattutto nei momenti di crisi, e il fatto che il futuro non si possa prevedere. C'è crisi, quindi mi arrocco, rimango fermo. In realtà le crisi sono tutte differenti, ma l'uscita dalle crisi hanno sempre un solo verso, quello della crescita. Quindi il futuro si può prevedere, studiando la storia, e si può personalizzare l'offerta che si fa a un proprio cliente, perché ogni cliente ha una specifica situazione. Quindi l'idea è quella di rimanere arroccati, avere paura, in realtà durante quella fase di paura, quello scenario che ci sembra apocalittico, ci sono delle grandi opportunità. Faccio due esempi veloci per farvi capire. Durante la crisi di Lehman, la crisi finanziaria, tutti pensavano che il mondo finanziario sarebbe crollato. Nei 18 mesi successivi il mercato finanziario ha fatto il 79%. Però la battuta d'arresto c'è stata. C'è stata, e lì c'è l'idea di avere a disposizione qualcuno che ci aiuta a capire che cosa fare in quel momento. In quel caso molte persone hanno venduto invece di fare acquisti. L'altro caso è stato durante la pandemia. Chi di noi non ha pensato durante la pandemia che il mondo sarebbe finito? Nei 12 mesi successivi il mercato azionario globale ha fatto più 119%. Però perché ne siamo abituati a concentrarci sul breve periodo e non sul lungo periodo, quindi in ottica di investimenti? Perché pensiamo all'oggi e non ad avere uno sguardo verso il futuro lontano? E questo è un problema culturale tipico. Tipicamente italiano. Noi abbiamo una scarsa cultura finanziaria ma è ancestrale. Cioè se noi pensiamo a detti come meglio nuovo oggi che una gallina domani ci fa capire che noi guardiamo il brevissimo periodo probabilmente guardiamolo oggi neanche il domani e non abbiamo quella sensibilità di capire che per poter costruire qualcosa ci vuole il tempo, il giusto tempo. Io non penso domani mattina che voglio comprare casa e la casa la costruisco e in cinque giorni lo... Certo, però è proprio in quest'ottica che poi ne riminiamo che le nostre aspettative restano disilluse, disattese perché probabilmente ha alto errore da evitare. Il fatto che le nostre aspettative sono sempre alte, molto spesso realistiche, talora anche sproporzionate per cui i clienti restano delusi e in questa delusione decidono di non approcciarsi proprio all'investimento. Qui l'errore è tipicamente del consulente perché il consulente che non è in grado di darti quell'informazione che ti fa capire che tutto quello che stai facendo devi avere un tempo per maturare è ovvio che tu possa rimanere disilluso. Del resto è nella natura delle cose quella di avere il giusto tempo per maturare. Dalle coltivazioni a qualsiasi cosa noi facciamo in ogni cosa c'è il giusto tempo. Quando sentiamo che qualcuno ha fatto il colpo della vita cioè che ha fatto un investimento che nel giro di una settimana ha raddoppiato, ha triplicato perché ogni tanto si sente che cosa succede? Quello è il colpo della vita. Quella persona probabilmente non vi sta raccontando quante altre volte invece nel giro di una settimana ha bruciato patrimonio o ha bruciato capitale. Quindi l'idea è quella di avere un approccio con qualcuno che ti prenda per mano ti accompagni e ti faccia comprendere quali errori stai commettendo e come andare avanti. Come in Italia. Oggi abbiamo lavorato sull'aspetto psicologico quindi abbiamo compreso che è necessario muovere i nostri risparmi e non tenerli lì possibilizzare i paralizzati perché in realtà non ci portano a nessuna parte ma abbiamo bisogno comunque di un consulente finanziario di fiducia oggi l'abbiamo conosciuto in realtà lo conosciamo sempre qui con noi a mattina live il dottor Vincenzo Procino grazie di averci ritroviamo la prossima volta. Grazie mille un saluto. Pubblicitari state con noi.